Ci troviamo in via Tornatore al numero civico 23 nel quartiere Provvidenza. Ci ha chiamato la signora Grazia Di Maggio. Come ricorderete entro fine mese il sindaco ha promesso di far bonificare il quartiere, quindi far togliere la spazzatura e far chiudere le case di scarica abbandonate. Qui però il problema resta un altro, quale? Ci sono tante case con tetti pericolanti, anche quando è piuto l'ultima volta è caduto proprio un pezzo di tetto, quindi si deve vedere come si può sistemare questa situazione. Non si può andare avanti così ad avere tetti pericolanti, muri che cadono, insomma si deve fare qualcosa, è impossibile andare avanti. Anche perché queste sono case di privati, quindi comunque c'è tutta la burocrazia di mezzo, però nel frattempo se cade un tetto o un cornicione rischiate voi che abitate. Sono bambini, quindi di più per i bambini, non per noi grandi perché si tira avanti, per i bambini. Se giocano ci cade un pezzo di tetto o qualcosa, insomma è pericoloso. Grazie a tutti.